Ciao a tutti e bentornati, in questo video parliamo di Elk Finance. Elk Finance è, semplificando molto, un servizio di bridging e quindi in questo ultimo periodo lo vediamo come inizia sempre di più a prendere piede la narrativa della DeFi crosschain, degli NFT crosschain e dell'interoperabilità in generale, a mio parere portarvi questo protocollo, che si occupa proprio di questo e che è ancora poco conosciuto, può dare del valore aggiunto. Nella prima parte di questo video vorrei darvi una panoramica generale di quello che è Elk Finance, quelli che sono i servizi che offre e anche tutto ciò che riguarda la tokenomics del suo token, mentre nella seconda parte ci terrei invece a farvi vedere un esempio pratico di come si può utilizzare questo protocollo per pregiare i nostri asset da una chain a un'altra. Benissimo, per spiegare brevemente il funzionamento di Elk Finance ci viene in aiuto questo articolo Medium pubblicato in italiano da Ardyn Finch. Lui introduce dicendo che molti pensano erroneamente che Elk sia un progetto di bridge, di bridging qualunque, quindi non molto diverso da altri bridge come ad esempio Multichain che prima era AnySwap. Questo tuttavia non è vero proprio perché, come vedremo dopo, Elk sta portando degli sviluppi notevoli e delle innovazioni molto importanti in ambito DeFi. Sta infatti per lanciare, questo avrà nei prossimi mesi, la prima stablecoin Multichain. In particolare questa stablecoin sarà legata al Franco Svizzero, ma dopo ve la mostro nel dettaglio. Oltre a questo vogliono portare quelli che sono i proxy token, che anche questi li vedremo meglio successivamente, sono dei token che hanno intrinseche delle caratteristiche Multichain. L'articolo prosegue presentandoci quelli che sono i problemi principali che caratterizzano l'universo crosschain e multichain, l'universo attuale crosschain e multichain. I principali dei quali a mio avviso sono il problema della liquidità in uscita, ossia quel problema secondo il quale quando facciamo un bridge, per esempio con Multichain, noi andiamo a bloccare ad esempio USDC su Avalanche e li andiamo a sbloccare su un'altra chain come Phantom. E questo può rivelarsi un problema se ad esempio non ci sono USDC da sbloccare su Phantom, perché a questo punto noi non possiamo effettuare il bridge. Il secondo problema invece, quello che viene definito qua la frammentazione del bridge, ci ricorda come tutti questi nuovi servizi di ponte, varie blockchain, vanno a creare tantissimi token wrappati. Per esempio abbiamo una versione wrappata di Bitcoin su rete Phantom, che è diversa dalla versione wrappata di Bitcoin su rete Avalanche, e questo non può che andare a frammentare la liquidità fra le varie versioni, fra le varie chain. Quello che propone Elk, e quindi tramite ElkNet, che è il pacchetto di tutti i servizi che propone Elk Finance, assieme al suo utility token, quindi Elk, è il seguente. Il loro servizio di bridging ruota intorno alla moneta Elk. Questa infatti è la moneta nativa di tutto l'ecosistema ed è l'unica che effettivamente si sposta da una chain all'altra. Quindi è l'unica moneta che trasporta del valore fra la blockchain A e la blockchain B. Quindi il loro servizio di bridging è il seguente. Uno si reca su Elk, tramite il loro servizio di swap e quindi di exchange decentralizzato compra degli Elk, li spedisce, li bridge verso un'altra blockchain. Su quella blockchain riconverte gli Elk per la moneta di cui ha bisogno, come OSDC o Ethereum, qualsiasi altro token, e da lì può disporne come vuole. Qua c'è proprio lo schemino che ci mostra quanto vi ho appena spiegato. Il token X viene convertito in Elk sulla blockchain 1, questo Elk raggiunge la blockchain 2 dove viene convertito per il token X e questo token X finisce nel wallet di chi ha eseguito l'operazione di bridging. È molto importante capire che al centro di questa operazione di ponte c'è quella che viene definita la Elk Mainnet, ossia una vera e propria blockchain che adesso è ancora centralizzata, ma che a breve, tramite l'introduzione di validatori, funzionerà proprio da blockchain intermediaria fra la chain 1 e la chain 2. E dopo vedremo i vantaggi che questo può portare. Parlando di svantaggi però, di utilizzare questa metodologia per spostare i token fra le varie blockchain, quello che ci viene subito in mente è ovviamente quello dello slippage, ossia quando uno spostando un certo ammontare di soldi fra una chain e l'altra si trova ad avere impatto su quello che è il prezzo di Elk e quindi andando a perdere un po' di valore fra i due scambi che avvengono. E la soluzione a questo problema è quella di avere sempre più liquidità fra le pool contenenti Elk sulle varie blockchain. Un altro problema che si riscontra è che anche se questa operazione di bridging è veramente veloce, e dopo nella parte del tutorial lo vedrete, vi è comunque il rischio che durante questo lasso di tempo il prezzo del token Elk vari. Ed è proprio per questo che ritorniamo alla volontà di Elk Finance di introdurre una stablecoin. Questa stablecoin, che ci viene detto sarà multichain nativamente, verrà chiamata CHFT, ossia CHF Tethered. Questo sta a indicare che sarà una stablecoin legata al prezzo del franco svizzero. Al momento non esiste ancora, ma noi già sappiamo che questa stablecoin potrà essere mintata utilizzando degli altri token, quindi sarà una stablecoin sovracollateralizzata, come può essere DAI o MIM. Questa stablecoin, una volta che sarà introdotta, permetterà quindi di fare degli scambi cross-chain senza più quel problema che abbiamo visto prima di fluttuazione del valore dei nostri asset mentre andiamo a brigiarli. Parlando invece di quelli che sono i proxy token, questi vogliono proprio risolvere il problema della frammentazione, e questo creando un token quindi unico per tutte le chain basato su una determinata criptomoneta, come ad esempio Ethereum. Questi proxy token saranno mintati ovviamente in rapporto 1-1 alla moneta che vogliamo andare a brigiare e si potranno muovere fra tantissime chain senza dover essere wrappati o rivrappati da altre parti. Oltre a tutto questo, è il che prevede anche di rilasciare un SDK, quindi proprio un vero e proprio software development kit, proprio per sviluppare delle applicazioni cross-chain, come ad esempio un lending cross-chain. Questo sarà possibile proprio dal fatto che esisteranno dei token univoci indipendentemente dalla blockchain da cui si lavora. Legato sempre a questo SDK c'è anche il cosiddetto bridge as a service, ossia un servizio che vogliono implementare che permetterà a qualsiasi token, quindi agli sviluppatori di qualsiasi token, di avere una versione unica, brigiabile fra più chain. Per quanto riguarda le tempistiche, questo bridging as a service è previsto per il primo trimestre di questo anno, del 2022, mentre la stablecoin CHFT per il secondo trimestre. Tornando a quello che è il funzionamento del bridge attuale, ecco un altro problema importante è che quando si va ad aggiungere una nuova chain ad un sistema di bridging, la difficoltà aumenta esponenzialmente. Questo perché, presupponendo di avere un bridge tra Avalanche ed Ethereum, introducendo BSC e Phantom, ecco che allora i bridge effettivi diventerebbero 6, ossia Avalanche BSC, Avalanche Ethereum, BSC Ethereum, Avalanche Phantom, Phantom e BSC Ethereum, Phantom. E questo cresce esponenzialmente, quindi il numero dei bridge effettivi che ci sono cresce esponenzialmente man mano che aggiungiamo una blockchain. Come invece abbiamo spiegato prima, Elk Finance evita tutto questo perché il suo bridge si basa sul token Elk che passa attraverso la blockchain di Elk e quindi Elknet. In questo modo, prendendo l'esempio che ci danno qua di Avax e Matic, quando si invia un Elk da Avax, questo viene bruciato sulla rete di Avalanche e viene mintato sulla rete di Matic. Tutto questo è possibile proprio perché in mezzo c'è questa blockchain di Elknet. Tutto ciò chiaramente poi genera opportunità di arbitraggio fra le varie chain con il prezzo di Elk che quindi col tempo si allinea sempre di più indipendentemente dalla blockchain in cui si trova. Al momento, come abbiamo detto prima, questa blockchain di Elk è centralizzata, ma quando verranno inseriti dei validatori che andranno a mettere in stake un certo numero di Elk, questa diventerà a tutti gli effetti decentralizzata. Parlando di token Elk, questa qua è la pagina su CoinGecko, attualmente ha una capitalizzazione di circa 13 milioni e questo qua è lo storico del prezzo. Per quanto riguarda le tokenomics, qua ne vediamo l'allocazione e la total supply che è di circa 42 milioni di token. Ecco, ritornando all'allocazione, le due parti più importanti sono questa qua, legata all'insurance, quindi all'assicurazione sull'impermanent loss e questa qua dedicata alle rewards del farming. Iniziando a parlare della seconda, ovviamente per permettere la liquidità che è necessaria fra le varie chain, le pool con Elk vanno incentivate e per questo ci sono delle emissioni. La cosa interessante è però che queste emissioni sono soggette ogni anno ad un halving, quindi la quantità emessa di nuovi token Elk decrementa col passare del tempo. Il primo dimezzamento delle emissioni avverrà il 19 marzo del 2022. Per quanto riguarda invece la parte legata all'assicurazione sull'impermanent loss, dobbiamo studiare quello che propone Elk Finance in ambito di protezione da impermanent loss. Per incentivare ulteriormente gli utenti a dare liquidità nelle pool con Elk, che sono centrali senza la liquidità, questo protocollo non funziona perché non permette degli scambi efficienti. Loro hanno stanziato proprio un fondo che va a ripagare tutti quegli utenti che incorrono in impermanent loss. Questi token vengono dati sia che il prezzo di Elk vada verso l'alto, sia che vada verso il basso. E per evitare che queste nuove emissioni vadano a danneggiare il prezzo di Elk, questa compensazione dell'impermanent loss è proporzionale al tempo che teniamo i nostri asset nell'LP. Per vedere la supply in circolazione di Elk è sufficiente andare sull'applicativo di Elk Finance, andare qua nella sezione degli Elk e ci verranno mostrati a schermo in basso Total Elk in Circulation. Quindi ad oggi ammonta a 4,8 milioni. Per quanto riguarda l'aspetto pratico, quindi il breve tutorial che vi faccio in questo momento vedrete come utilizzare Elk è veramente semplicissimo. Io in questo momento sono collegato sulla rete Phantom e mettiamo che voglia spostare 8 Phantom sulla rete Diffuse. Faccio la conversione quindi di Phantom in Elk. Nel mentre che aspettiamo che la transazione venga confermata, cerchiamo su ElkNet, che è dove avviene l'effettivo bridging. E come vedete qua noi possiamo scegliere una fra le tantissime chain disponibili. In totale Elk Finance è disponibile su 16 blockchain diverse, le vediamo tutte qua a schermo, e il bridging è uguale per tutte. Qua quindi andiamo a selezionare Fuse, inseriamo la quantità massima di Elk, e qua ci dà anche l'opzione di swapare un Elk per del gas sulla chain di destinazione. In questo caso ci fa in automatico lo swap di un Elk per dei Fuse, veramente molto utile nel caso in cui non dovessimo avere, per esempio, dei Fuse sulla blockchain di Fuse, il che non ci permetterebbe a tutti gli effetti di fare transazioni. Quindi andiamo ad approvare e andiamo a trasferire i fondi. Bene, ora ci spostiamo sulla blockchain di Fuse. Quindi andiamo a switchare il network. Torniamo nella sezione swap e attendiamo l'arrivo degli Elk. Benissimo, è passato qualche minuto, quindi è stato anche relativamente veloce, ed ecco qua sul mio account sulla rete di Fuse i miei Elk e anche 3,14 Fuse, ossia ha convertito a tutti gli effetti un Elk per del gas. Questi Elk io ovviamente adesso li potrei andare a scambiare, per esempio, con Fuse e essenzialmente farci quello che voglio. Al momento per questi bridge non si pagano fees, l'unica cosa che si paga è ovviamente le gas fees per il network di partenza. Per chi poi fosse interessato a conoscere precisamente quanta liquidità c'è per ogni pool su ogni rete, io vi lascio in descrizione il link di questo articolo nei docs, dove appunto se uno vuole andare, per esempio, a vedersi quanta liquidità c'è sulla rete di Avalanche, ci clicca sopra e qua abbiamo tutte le statistiche, quindi anche coi vari pairs. Benissimo, per questo video è tutto, io vi ringrazio per la visione e ringrazio soprattutto chi di voi si è iscritto al canale, perché siamo arrivati a 100. Questo per me significa davvero molto, significa che vi piacciono i miei contenuti e quindi continuerò a portarne. Detto questo, io vi saluto e noi ci vediamo in un prossimo video.